Vorrei introdurmi con un testo antico che dice così, Creonte che parla e dice «E così tu hai osato violare le mie leggi» e Antigone risponde «Sì, perché non le ha proclamate Zeus, né la giustizia che abita con gli dèi di qua giù, né l'uno né l'altra le hanno stabilite tra gli uomini». Io non ritengo che i tuoi decreti siano tanto forti e che tu, mortale, possa passare oltre alle leggi non scritte e immutabili degli dèi. Esse esistono non da oggi, né da ieri, ma da sempre. Nessuno sa quando sono apparse. Per il timore delle volontà di un uomo non dovevo rischiare che gli dèi mi punissero. Questo testo appartiene a Sofocle, racconta il mito della triste vicenda di Antigone, la figlia di Edipo. Come narra la tragedia, i suoi due fratelli, Polinice e Teocle, per la brama del potere, si erano dati reciprocamente la morte. Il re Creonte, per questo, aveva stabilito di punire soprattutto Polinice e non doveva essere sepolto. Grande affronto nell'antichità. Ma, contrariamente alla legge del re, Antigone, la sorella, pur sapendo che avrebbe ricevuto la condanna a morte, preferisce seguire la legge non scritta della Pietas e il comando religioso verso i defunti. Quindi Antigone procede con la funzione della sepoltura. Creonte lo viene a sapere e punisce Antigone richiudendola nella caverna finché non dovesse morire. A questo punto interviene il figlio di Creonte, Emone, che rimprovera a suo padre di abusare della legge perché lui stesso si arroga dei diritti che appartengono soltanto agli dèi. Questo verso, che abbiamo letto, ma tutta la tragedia, è databile con certezza nell'anno 442 prima della nascita di Cristo. È l'anno della sua prima rappresentazione ad Atene. Anticipa riflessioni che filosofi quali Platone e Aristotele consolideranno con la forza della ragione nei decenni successivi. Alcune esemplificazioni mostrano con evidenza quanto la legge naturale fosse radicata nel pensiero antico e riconosciuta per le circostanze più diverse. Pur non opponendo legge naturale a legge positiva, costoro insegnavano che quella positiva era in ogni caso il riflesso della legge naturale. Su quale idea del giusto si fondava Cerse, si domanda Platone, per fare guerra alla Grecia o suo padre agli sciti? E rispondeva Quelli hanno agito, così mi pare, secondo la natura del giusto e secondo la legge della natura e probabilmente non secondo quella istituita da noi uomini. In termini ancora più espliciti Aristotele quando nella sua retorica scrive affermando che le leggi degli uomini hanno un carattere di convenzione e quindi non possono essere eterne né obbliganti per tutti e variano a seconda delle culture e dei tempi mentre la legge naturale obbliga tutti sempre e dovunque. Cito La legge particolare, nomosidios, dice il testo greco è quella che ogni gruppo di uomini determina in rapporto ai suoi membri e questi tipi di legge si dividono in legge non scritta e in legge scritta. La legge comune è quella conforme alla natura catafusin Infatti c'è un giusto e un ingiusto comuni per natura che tutti riconoscono per una specie di divinazione anche se non vi sia nessuna comunicazione o reciproca convenzione. Due secoli più tardi a Roma Cicerone farà da eco a queste espressioni dei filosofi greci scrivendo nel suo De Repubblica Cito La legge naturale è la diritta ragione conforme a natura universale costante eterna la quale con i suoi ordini invita al dovere con i suoi divieti distoglie dal male essa non comanda né vieta in vano agli onesti pur non smuovendo i malvagi a questa legge non è lecito fare alcuna modifica né sottrarre qualche parte né è possibile abolirla del tutto né per mezzo del Senato o del popolo possiamo affrancarci da essa né occorre chiederne il chiosatore o l'interprete e non vi sarà una legge a Roma una ad Atene una oggi una domani ma una sola legge eterna e immutabile governerà tutti i popoli in tutti i tempi e un solo Dio sarà come la guida e il Signore di tutti lui appunto che ha concepito redatto e promulgato questa legge alla quale l'uomo non può disobbedire senza fuggire da se stesso e senza rinnegare la natura umana e senza perciò stesso scontare gravissima pena quando anche sfuggisse le punizioni ordinarie le parole di Cicerone non hanno bisogno di particolare commento esse comunque indicano un cambiamento che merita un'attenzione particolare da parte nostra si verifica un passaggio per nulla trascurabile dal dicaion ciò che è giusto dei filosofi greci a ius diritto esso mostra che quanto era giusto per natura ora viene interpretato a Roma come un diritto naturale vale a dire norma di ciò che secondo natura è giusto ciò che il romano scriveva a seguito dei filosofi greci può essere ritrovato in Israele sotto l'espressione la legge di Dio nella concezione biblica infatti il diritto non si limita alla sola legge esso è concepito come un ordine che Dio stesso ha posto nel creato e ha stabilito per il suo popolo perché impari a trovare la sua volontà a metterla in pratica come premessa e condizione di felicità non è un caso che nella sacra scrittura il tema del diritto venga spesso associato a quello di giustizia la relazione comunque riporta al primato della coscienza che si sente sempre impegnata nella ricerca della giustizia mediante l'applicazione di un diritto che non può essere solo ciò che è codificato quanto piuttosto ciò che coglie il senso profondo della volontà del creatore è per questo motivo che la concezione biblica aggiunge un'originalità propria alla prospettiva greco-romana vale a dire la giustizia non consiste soltanto nel rispettare una norma fosse pure la più perfetta che gli uomini possono formulare e non si conclude neppure nel garantire l'uguaglianza fra tutti i cittadini la giustizia che si coniuga con il diritto deve essere capace di far emergere il vero bisogno di ogni persona il vero bene della persona perché possa trovare il suo posto e svolgere il suo ruolo corrispondente in seno alla comunità come vedete siamo in sintonia con quanto il professor Belanielli diceva precedentemente questa esigenza fondamentale appare più necessaria del pane a tal punto che la ricerca della dignità dell'uomo permane nella visione biblica come il vero fondamento del diritto e la giustizia non corrisponde pienamente al suo scopo fino a quando non ha realizzato questo compito questi pochi e rapidi riferimenti ci mostrano che da ogni parte noi si voglia guardare senza preconcetti ci si incontra con la stessa idea di fondo esiste una legge deve esistere una legge che non ha l'uomo per autore questa legge piuttosto gli viene donata perché possa indirizzare i suoi atti così da ricevere sempre da ricercare sempre il bene per essere felice ed evitare il male per non incorrere nella pena ciò che i greci chiamavano giusto per natura di caion catafusin si trasforma presso i romani in ius naturale e nel popolo eletto in mishpat adonai il cambiamento che si osserva manifesta una sensibilità propria determinata dall'epoca e un progresso che si realizza nello spirito delle culture non una mutazione del concetto non abbiamo una alterazione di quel concetto originario già dal 442 abbiamo un progresso un'evoluzione non mutazione in epoche diverse in regioni territoriali differenti si ritrova comunque un'idea fondamentale condivisa vale a dire esiste un contenuto etico che l'uomo riconosce da sé immediatamente quasi in modo istintivo come una norma a cui doversi attenere per poter vivere conforme a ciò che lui è e che trova riscontro in quello spazio immenso e diversificato che è la natura lui è uomo non è un animale è un uomo deve vivere corrispondentemente a ciò che lui è l'apostolo Paolo nella sua lettera ai romani lascia trasparire chiaramente che anche i pagani cioè quelli che non credono cito da la lettera dei romani il capitolo 2 che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge ed essi pur non avendo una legge sono legge a se stessi interessantissimo come dire quanti non credono sono guidati da una legge pur non avendo ricevuto una rivelazione infatti esprimono un giudizio sia sul proprio comportamento sia sul comportamento degli altri esiste quindi una legge che il creatore ha scritto nella loro natura la conclusione a cui Paolo giunge è coerente i pagani dice dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti qui l'apostolo cito da romani 2.15 ha davanti a sé due elementi la coscienza quindi il criterio di giudizio ma la coscienza deve essere formata la coscienza deve avere davanti a sé una norma a cui richiamarsi e interessantissimo il ragionamento degli uomini l'uomo ragiona c'è la razio questi due elementi sono garanzia per riconoscere la presenza di una legge che va oltre quella scritta codificata dagli uomini non trovo espressione migliore come commento a queste parole che la meditazione di un santo vescovo agostino quando scrive poiché la verità ha scolpito nei nostri cuori per la mano stessa del creatore il principio ciò che non vuoi sia fatto a te non farlo agli altri questo è il primo principio etico generale a nessuno fu mai permesso di ignorare questo comandamento anche prima che fosse data la legge in modo che potessero essere giudicati anche coloro che non avrebbero avuto una legge ma finché gli uomini non si lamentassero che mancava loro qualcosa fu scritto sulle tavole ciò che essi non riuscivano a leggere nel proprio cuore non è vero infatti che essi non avessero in cuore alcuna legge scritta solo che si rifiutavano di leggerla fu allora posto dinanzi ai loro occhi ciò che avrebbero dovuto vedere nella coscienza e l'uomo fu spinto a guardare nel suo intimo dalla stessa voce di Dio proveniente per così dire dal di fuori insomma per dirla con un'espressione sintetica di San Tommaso e permettetemi di citarla perché a me tra queste mura del collegio Alberoni chiaramente risuona alla mente quanto qui fra queste mura fu fatto tantissimo per quello che noi ricordiamo in teologia come il neotomismo e quindi qui sorge una rivista negli anni passati nei decenni passati una rivista che ha fatto di tutto per riportare in un periodo in cui Tommaso voleva essere e doveva essere completamente marginato per riportare ancora l'insegnamento di questo grande pensatore che l'umanità ha avuto Tommaso dice che la legge naturale è l'esercizio che ogni uomo compie della propria ragione e della propria libertà perché queste infatti sanno riconoscere quanto è conforme e coerente e conveniente alla persona per raggiungere la piena realizzazione di se stessa insomma più si cresce nella comprensione di se stessi in maniera coerente a ciò che si è quindi come uomini e maggiormente l'uomo si inserisce in quel progetto di vita che lo realizza perché lo immette nella conoscenza della verità già questa considerazione rende evidente che quando si parla di legge naturale non si fa riferimento ad una visione astratta dell'uomo ma ad una visione concreta nell'identificare questo uomo come immagine di Dio immagine che si esprime nel logos per cui nella misura in cui ognuno corrisponde a questa chiamata e si fa discepolo di Cristo diventa anche principio dei suoi stessi atti cioè capace di produrre atti e principi morali alla fine del medioevo come si sa iniziano a svilupparsi teorie che sottolineano maggiormente la dimensione volontaristica il termine volontarismo richiama alla mente per il nostro discorso due personaggi in primo luogo Duns scoto e successivamente Occam il primato della volontà porta l'eclissi sull'intelletto e inevitabilmente lo stesso concetto di legge naturale viene a modificarsi ormai si parla di ius quia iussum vale a dire si è compiuto un passaggio se di Dio possiamo conoscere così come voleva scoto e Occam di Dio possiamo conoscere soltanto la sua volontà ordinata quello che Dio comanda ne segue non solo l'impossibilità di poter codificare una conoscenza naturale di Dio ma di conseguenza che la bontà di un'azione risiederà solo nel fatto che è ordinata da Dio venendo a mancare il rapporto con la verità e la bontà si impone il principio della liceità o meno di un atto insomma per dirla con Lutero il rasoio di Occam si fa sentire come eliminazione di fatto di un riferimento alla stessa legge naturale degli antichi fino a giungere all'eccesso di queste posizioni con Hobbes e Leviathan cito in una città costituita l'interpretazione delle leggi di natura non dipende dai dottori dagli scrittori che hanno trattato di filosofia morale ma dall'autorità civile infatti le dottrine possono essere vere ma è l'autorità non la verità che fa la legge tremendo ma questo è al punto in cui noi oggi ci troviamo non veritas sed auctoritas facit legem è in questa posizione volontaristica alla fine che risiede il grande equivoco giunto indenne fino ai nostri giorni secondo cui la legge naturale è una concezione tipicamente cristiana se la conoscenza di Dio è ridotta alla sua volontà se questa è conosciuta dalla rivelazione segue logicamente che senza rivelazione non vi è alcuna possibilità di giungere a una visione naturale e per il nostro tema all'identificazione tra legge naturale e rivelazione diventa inevitabile e cari amici non è il caso adesso di ripercorrere tutti gli ulteriori sviluppi che la legge naturale ha avuto nel corso dei secoli successivi all'impostazione di Ockham che troverà riscontro poi in Lutero Calvino risponderà la prospettiva più razionalista Francisco de Vittoria Crozius con la sua teoria giusnaturalista ma certamente il professor D'Agostino aveva parlato di questo in un periodo di crescente autonomia della ragione e di divisione tra i popoli a causa della divisione tra i cristiani siamo ormai nel 1500 quindi evidentemente c'è la grande divisione all'interno ma in tutto l'Occidente la divisione tra cristiani cuius regio eius et religio e quindi inevitabilmente soprattutto in quello che oggi conosciamo come la Germania e se in Vesfalia il re è luterano segue Lutero tutto il popolo deve seguire la religione del proprio re se invece in Bayern sono il re cattolico tutti seguiranno e il popolo dovrà essere cattolico e quindi voi vi ritroverete come ci ritroviamo come vi ritrovavo io per vent'anni ad andare là che il confine il povero Hiller segnava il confine tra il Bayern da una parte tutta cattolica e quindi il 15 di agosto festa solenne attraverso il ponte il Baden-Württemberg invece è tutto protestante e quindi il 15 di agosto non è festa perché bisogna necessariamente conta niente insomma di fatto etsideus non daretur questa formula di cui certamente questa mattina avete sentito parlare che esiste un ordine necessario e mutabile che ha in se stesso una propria razionalità ciò che si verifica in questo frangente che cos'è è lo slittamento dall'oggettività della legge naturale alla soggettività del diritto naturale con il quale vengono riconosciuti i diritti innati e inalienabili che la ragione pone come fondamento per il vivere sociale in una parola il riferimento alla storia mostra che per parlare con coerenza di diritto naturale è necessario far riferimento alla legge naturale di cui rappresenta il contenuto oggettivo nelle sue determinazioni fondamentali questo diritto è immutabile ma la consapevolezza del suo valore storico dei contenuti che esprime dell'incidenza che questi hanno presso i singoli e le società matura con il crescere della coscienza etica che non può fermarsi mai pena l'interruzione stessa del progresso spirituale dell'umanità questo breve panorama in altre parole tende a evidenziare che la legge naturale non è è un'invenzione cattolica come qualcuno anche in questi giorni qui a Piacenza vorrebbe liquidare in maniera semplicistica forse per ignoranza o forse per non affrontare nei termini dovuti l'importanza e l'attualità di questo tema dietro questa espressione si nasconde la maturazione della ragione umana in diverse epoche storiche nel suo tentativo di saper cogliere il reale e poter dare una risposta intelligente ai permanenti interrogativi che la ragione pone ma il contesto contemporaneo non è meno complesso per diversi decenni il tema della legge naturale è stato essenzialmente dimenticato le cause sono molteplici primo fra tutte a mio avviso il modificarsi del concetto stesso di natura in ambito filosofico perché è evidente che se come scrive uno dei nostri filosofi contemporanei e che il concetto di natura è soggetto al sentire generazionale evidentemente noi e cito testualmente evidentemente noi non avremo più possibilità di poter parlare di natura perché ogni generazione avrà il suo concetto ciò che appare immediato comunque è che l'indifferenza verso la legge naturale ha impoverito non solo la scienza priva ormai di criteri di giudizio che vanno oltre la giusta e doverosa ricerca quando non è soggetta ai soli interessi economici ma soprattutto ne ha risentito i comportamenti delle persone la ricerca scientifica per alcuni versi sembra monopolizzata dalla sola sperimentazione sulla natura alterando di conseguenza il concetto stesso infatti la tratta come semplice materia manipolabile così che ne scaturisce un distacco di responsabilità da non coinvolgere più nel mantenimento di un ordine che sovrasta l'uomo e che non è determinato dalla sua sola volontà di manipolazione alla stessa stregua i comportamenti delle generazioni quando non hanno più un fondamento nella natura ma sono orientati in gran parte dal desiderio effimero vengono privati della loro libertà e cadono facilmente preda dell'arbitrio spiace constatare che da questa generalizzata debolezza non si sono salvati neppure diversi parlamenti i quali hanno legiferato non solo prescindendo da quanto iscritto nella legge della natura ma giungendo perfino a giustificare comportamenti in netto contrasto con essa in forza di un ipotetico diritto ritenuto fondamentale solo per gli imporsi dell'ideologia sottostante lo ius quia iussum del passato si trasforma in molte società nello ius quia consensum abet per noi per me impenitente metafisico la verità non deriva dal consenso di statistiche anche sociologiche ma non l'avevo scritto ma visto che ce l'ho qui accanto la verità non deriva dal consenso ma da un fondamento ben più solido la legge naturale cari amici venne concepita nell'antichità aveva il suo spazio vitale perché rientrava in una lettura religiosa del mondo oggi le diverse forme di secolarizzazione hanno modificato il modo di porsi dinnanzi ad esso e di conseguenza la stessa legge naturale ha subito una comprensibile anche se ingiustificata emarginazione se viene meno il richiamo a una legge impressa nella natura che va oltre le diverse culture degli uomini si corre il rischio di cadere in un primato della cultura che tutto domina e tutto condiziona nessuno tuttavia può essere prigioniero della cultura nella misura in cui essa è un prodotto dell'azione personale e sociale deve esprimere una tensione verso la pienezza della verità e non un vincolo che rende impossibile la sua conquista per questo è necessario il rinvio alla legge della natura come garanzia per ogni persona di essere libera e responsabile nella formare la propria dignità non in riferimento alle convenzioni degli uomini ma alla verità più profonda della propria essenza personale e quindi è auspicabile che si intraprenda la strada per una rinnovata comprensione della legge naturale di un linguaggio più coerente con le istanze del mondo contemporaneo perché si possa percepire il valore di una norma non scritta che permane come strumento di unità per tutto il genere umano e come espressione concreta di un'impronta che Dio ha voluto lasciare nel creato come segno del suo amore riprendere tra le mani questa problematica corrisponde al tentativo che dura da sempre nella storia del pensiero di dare risposta all'interrogativo circa la possibilità di una conoscenza oggettiva per quanto concerne l'idea per quanto concerne l'etica indipendentemente quindi da una rivelazione cristiana insomma esiste per l'umanità qualcosa di comune esistono dei valori delle norme che sono valide sempre per tutti prescindendo dalla propria cultura dalla religione dal sistema giuridico non solo quale discernimento è possibile praticare su questi valori come si possono realizzare gli sforzi presenti nel mondo contemporaneo circa la giustizia la pace la salvaguardia del creato la dignità umana i diritti universali svaniscono nonostante le nostre buone intenzioni se non se non sono radicate in un fondamento valoriale che va oltre l'assenso politico proprio nei giorni scorsi in Gran Bretagna in questo storico discorso tenuto alla Westminster's Hall dinnanzi al Parlamento britannico agli uomini di cultura Benedetto XVI pur non parlando di legge naturale ha fatto riferimento proprio a questi interrogativi faccio una breve citazione quali sono si domandava il Papa le esigenze che i governi possono ragionevolmente impore ai propri cittadini e fin dove possono estendersi a quale autorità ci si può appellare per risolvere i conflitti i morali queste questioni ci portano direttamente ai fondamenti etici del discorso civile se i principi morali che sostengono il processo democratico non si fondano a loro volta su nient'altro di più solido che sul consenso sociale allora la fragilità del processo si mostra in tutta la sua evidenza qui si trova la reale sfida per la democrazia la questione centrale in gioco dunque è la seguente dove può essere trovato il fondamento etico per le scelte politiche la tradizione cattolica sostiene che le norme obiettive che governano il reto agire sono accessibili alla ragione prescindendo dal contenuto della rivelazione secondo questa comprensione il ruolo della religione nel dibattito politico non è tanto quello di fornire tali norme e ancora meno quello di proporre soluzioni politiche concrete bensì piuttosto di aiutare nel purificare e gettare luce sull'applicazione della ragione nella scoperta dei principi morali oggettivi concludo in fondo è soltanto in riferimento alla legge naturale che diventa possibile affermare quanto i diritti a cui si fa appello ad esempio nella dichiarazione universale non sono un'invenzione dovuta all'ingegno degli uomini di epoche storiche ma la riscoperta perenne che ogni generazione compie di un contenuto che le viene offerto come puro dono ogni generazione anche la nostra quindi deve essere capace di esprimere al meglio quello che è la condizione spirituale di una crescita che è dovuta se si ricerca la vera pace come il mondo di oggi sembra anelare che non sia solo assenza di guerra ma rispetto reciproco nell'accettazione dell'altro debellando ogni forma di discriminazione allora sarà necessario puntare lo sguardo proprio alle esigenze etiche universali immutabili per garantire la via di successo sia nelle relazioni interpersonali che in quelle internazionali d'altronde promuovere la ricerca di una strada che possa garantire il pieno e libero agire delle persone è un servizio che la Chiesa deve offrire proprio per sostenere il principio della dignità di ogni persona di fronte di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrinseco non ci possono essere privilegi per alcuno né eccezioni per nessuno essere il padrone del mondo capo di stato o l'ultimo più miserabile sulla faccia della terra non fa alcuna differenza davanti alle esigenze morali tutti siamo inevitabilmente e assolutamente uguali viviamo un contesto culturale che di fatto sostiene una pericolosa separazione tra verità e libertà frutto di una visione frammentaria della realtà che tende a isolare l'autonomia di ciascuno come la sfera di un possesso blindato senza alcun riferimento a contenuti oggettivi che determinano l'eticità dei propri atti e il giudizio che la coscienza è chiamata a dare su di essi se da una parte è necessario giungere a una critica di questa inspiegabile e ingiustificata separazione dall'altra è necessario trovare le strade per superare simile frattura e riconciliare nell'unità i due elementi così da consentire di ritrovamento della giusta direzione nei nostri comportamenti su questo tema credenti e non credenti hanno un compito di grande responsabilità per seguire sul cammino di una rinnovata presentazione della legge naturale può essere un servizio di genuina riflessione che viene posto come contributo per il progresso della società e il progresso dello spirito culturale del nostro tempo per seguire sulla strada di accontentare il nostro contemporaneo nella sua richiesta di diritti che stridono con la norma morale naturale non credo sia corretto e non penso neppure che possa essere perseguibile per ancora troppo tempo esaltare la libertà fino a farne un assoluto come fonte stessa dei valori è una trappola da cui stare lontani perdere o emarginare il senso della trascendenza rinchiudendo l'uomo sempre di più dentro se stesso è un percorso che la storia ha già dimostrato essere fallimentare molti segni sono posti dinanzi a noi per provocare la nostra mente l'azione sociale e politica ad uscire da una visione individualista per entrare in quello della relazionalità che identifica al meglio la persona una relazionalità che porta a riconoscere un mistero ancora più grande della nostra individuale enigmaticità la quale consente di trovare in maniera definitiva la risposta alla nostra permanente domanda di senso sulla nostra vita questa domanda non ci allontana ma consente di ritrovare noi stessi in quell'orizzonte di verità che dischiude perennemente alla ragione e che trova nella fede il suo sostegno più grande l'orizzonte di riconoscere